Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 18 maggio 2019, la nostra consueta rassegna stampa di Mattino 6, che andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sia regionali e nazionali e poi le pagine interne dei quotidiani regionali che questa mattina troviamo nell'edicole. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine dei quotidiani regionali con il centro della provincia di Pescara. Titolo di apertura, rapini e furti, allarme, sicurezza, Pescara assaltati i sette negozi in una notte, il questore dice ora più telecamere. Nel taglio alto in pole position in Zaghi e Sarri, Allegri dice Dio alla Juventus e parte il toto successore. Nel centro pagina di tutte e quattro le province del quotidiano Il Centro, vediamo il Giro d'Italia, vince l'Abruzzo, settima tappa da Basto all'Aquila, tanto entusiasmo lungo le strade. Nel taglio di spalla di sinistra, i nuovi divieti, traforo a 24, da lunedì si viaggia a 60 all'ora. Vogliamo ricordare che invece era stata prevista proprio la chiusura totale del traforo del Gran Sasso, ma si è giunti a un accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di continuarlo a tenere aperto, viaggiando però a 60 km orari e a 50 metri di distanza tra un'auto e l'altra. Nel taglio di spalla invece di destra, la Mogna, ricorso della Procura in Cassazione, la psicologa uccisa, la condanna ridotta da 30 a 17 anni al killer di Mogna Di Domenico, uccisa nel 2017 a Francavilla. Sempre a Francavilla gli stabilimenti sono a rischio, l'erosione delle spiagge continua a far paura. Montesilvano, discarica abusiva, imprenditore sotto inchiesta. Dalla provincia di Pescara ci spostiamo a quella di Chieti, Lanciano e Vasto, dove riporta il titolo di apertura, va a vedere la corsa, muore in moto. Ad Ortona, 59enne, si schianta contro un'auto prima del passaggio dei ciclisti. Nell'articolo di spalla di destra, a Basto, libero Giuseppe Salvatore Riina, 41 anni, il figlio di Torriina, trasferito nella casa lavoro di Tore Sinello, due anni fa ha ottenuto la revoca delle misure di sicurezza, ma resterà a casa al bordino nella fattoria di Don Silvio. A Chieti brecciarò la scuola a rischio al via i lavori, sul tetto della primaria, mentre la scuola d'infanzia lunedì arriveranno le certificazioni sulla sicurezza richieste dalla Preside. Ci spostiamo adesso sulla provincia di Teramo, col titolo di apertura, aziende del cratere, corsa ai fondi, a Teramo e boom di richieste, presentate 133 domande in poche ore. Anche qui vediamo la foto di apertura del Giro d'Italia, che vince l'Abruzzo, grande entusiasmo ieri, e a Moro d'Oro invece volevano rapinare la banca, sono stati arrestati. Il loro obiettivo era quello di introdursi all'interno della banca, aspettare l'arrivo dei dipendenti per farsi consegnare i soldi, ma i carabinieri hanno fatto saltare il piano per i due uomini, sono scattate ieri le manette. Ci spostiamo al comune di Sant'Omero, poca sicurezza, la casa di riposo deve chiudere. La struttura infatti non avrebbe requisiti di sicurezza per ospitare gli anziani. Dalla provincia di Teramo ci spostiamo a quella dell'Aquila, anche delle zone di Sulmona e Avezzano. L'Aquila, festa rosa per la rinascita. Giro tappa al Basco Bilbao, la maglia resta a Conti, centro storico invaso. Andiamo a ricordare che la tappa di arrivo del Giro d'Italia di ieri è stata proprio l'Aquila come città. Sempre all'Aquila, appalti provincia, chiesti otto anni per l'ex manager, nel processo a carico delle undici persone, su una presunta truffa nella ricostruzione di scuole. In marzo i Cassulmona sono stati chiesti otto anni per l'ex manager della provincia, Walter Angelo Specchio, due anni e dieci mesi per l'ex presidente del Corvo. Ad Avezzano, Fucino, il freddo fa temere danni ai raccolti. I prodotti seminati a marzo non stanno crescendo, le corture sono state danneggiate dal binomio piogge di giorno e gelate di notte. L'ospedale di Sulmona, spariti sette posti letto, Casini protesta. Dal quotidiano il centro ci spostiamo alla città della provincia di Teramo. Da lunedì traforo a Passo di Lumaca, si viaggerà a 60 km orari su corsia singola per galleria, con divieto di sospasso e distanza di sicurezza. Sventato l'agguato ai dipendenti di banca, due rapinatori ieri sono stati arrestati a Morodoro. A Teramo, 95 posti, case per gli sfollati. Il lunedì aprono le graduatorie. Sul Teramo Calcio si parla di Campitelli, che è il presidente del Teramo, potrebbe scedere una quota di minoranza. Giro di benvenuto. Oggi il Giro d'Italia partirà dal comune di Tortoreto, che già hanno organizzato la festa per questo speciale evento. Spostiamo a Teramo, strisce blu verso la prosecuzione, in attesa della cara. La sosta non sarà gratis. E sempre nella zona di Teramo, ex manicomio riaperto per le proteste degli animalisti. Dal quotidiano La Città, ci spostiamo al Messaggero, quotidiano della regione Abruzzo. Tra foro, ecco le nuove regole. Strada dei parchi, le misure concordate con il MIT, il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, per evocare la chiusura del tunnel. Limite di 60 km orari per tutti i tipi di mezzi e traffico su una sola corsia per ogni galleria. Questo è l'accordo che è stato raggiunto tra le parti. Giro d'Italia, l'Abruzzo dà spettacolo in tv. Vediamo qui la partenza che è avvenuta ieri a Vasto con l'arrivo all'Aquila. E purtroppo anche una triste tragedia. Schianto in moto contro un auto, morto un 59enne. L'incidente stradale ieri mattina a Ortona, vittima Francesco D'Alessandro di Crecco. E ad Avezzano le spese pazze per la scuola. Si sta concludendo la richiesta di dure condanne. Il processo in corso all'Aquila per le spese pazze per alcune scuole di Avezzano. Processo con 20 capi di imputazione. Dai quotidiani regionali ci spostiamo a quelli nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. L'ora delle offese tra gli alleati di Maglio. Salvini un pugile suonato. La replica invece di Salvini. Nessuno mi dà ordini, neanche il colle. Governo sul caso Sea-Watch. Smentita la lignatura del Vivo Minale. Autorizzato lo sbarco di 18 migranti. Poi ci spostiamo anche a una notizia che ha fatto il giro del mondo. Ieri, calcio, l'addio dopo 5 scudetti consecutivi. L'era finisce, l'era Allegri. Lo scontro con Nevded. Divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Ieri a Napoli un'altra tragica vicenda. Il killer, un giovane, insegue e spara nel pronto soccorso un suo coetaneo che è arrivato fino in ospedale al pronto soccorso continuando a sparare anche verso i medici. Poi questa notizia viene riportata anche sul mattino di Napoli. Un'altra triste notizia. Lo scuola busse si ribalta. È avvenuto ieri. 11 bambini feriti a Padova. L'autista era ubriaco e secondo fonti del Vivo Minale aveva già avuto altri precedenti. Sul quotidiano La Repubblica. Milano sfida tra due Europe. I sovranissi con Salvini, 11 capi, partito dell'ultra destra. Gli organizzatori sperano in un corteo di 100.000 persone. Il tantam della Lega in tv e sui social. L'insegnante invece punita dice sono una donna libera, così educo gli studenti. Vogliamo ricordare della vicenda dell'insegnante di questi giorni a Palermo che è stata condannata. E poi anche qui rottura con la Juventus. Se si riaffaccia l'ipotesi conte la rottura e il divorzio tra Allegri e la Juventus che ora è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il messaggero, questa volta la prima pagina del quotidiano nazionale. Più fondi ai paesi euroscettici. L'inchiesta è il paradosso dell'Europa. Maggiori risorse ai stati che hanno il record di astensione. Oggi il raduno sovranista a Milano divisi sui conti meno acquisti di BTP dalle banche rischio debito e Di Maio attacca sulla famiglia. Misure da sbloccare. Andando invece anche al centro pagina il conto dei violenti lo pagano le squadre della stretta di Roma. La delibera dell'Aggiunta Raggi si chiama in causa società sportive e organizzatori di grandi eventi. Napoli di Gomorra è il killer in ospedale per finire la vittima. Nel taglio basso scuola bus rovesciato. L'autista era ubriaco. Paura per 11 ragazzi feriti a Padova. L'uomo era fuggito ma successivamente è stato anche arrestato. L'inchiesta invece sullo stadio della Roma l'accusa del riesame. De Vito barattò il ruolo pubblico per favorire gli interessi personali. Un patto criminoso di marcificazione della pubblica funzione per i giudici. Il presidente del Consiglio Comunale Marcello De Vito non era un uomo che tagliava solo nastri come ha sostenuto il suo socio di affari Camillo Mezzo Capo. Ecco qui ci spostiamo al mattino di Napoli mette proprio in prima pagina come titolo sparava anche contro i medici a Napoli clan scatenati raid in ospedale il racconto shock del dottore Testimone dell'Aguado l'assalto di notte al Pellegrini per uccidere un ragazzo ferito poco prima colpiti anche altri due giovani e qui vediamo infatti nelle foto i buchi dei bossoli della pistola sulle scale che hanno la vita contro del piccolo bullo scampato alla morte qui richiama il titolo Berlusconi, Draghi, Premier Salvini, succube dei 5 Stelle la mia parabola non si è chiusa vado in Europa perché lì si decide il futuro questo è il commento di Silvio Berlusconi che si è candidato alle europee governo alla deriva questo è il titolo del quotidiano il manifesto Salvini contro i 5 Stelle ha autorizzato lo sbarco di soli 50 migranti su 65 e poi nella foto di apertura come anche titolo la buona scuola la solitaria di Palermo contro la docente sospesa per il video degli alunni contro le leggi razziali e il decreto sicurezza torni subito in cattedra studenti, insegnanti e sindacati in piazza il caso finisce in Parlamento questa è la vicenda che si sta portando avanti sull'insegnante il quotidiano il tempo family day contro family gay bocciato dalla Lega il testo del decreto sulla famiglia portato a Palazzo Chigi da Di Maglio i grillini provocano gli alleati lasciando corsi anti-omofobia per poliziotti e guardie carcerate la proposta del Movimento 5 Stelle di far fare questi corsi alle forze dell'ordine e nel taglio basso del quotidiano il tempo De Vito non è credibile rimanga in prigione le motivazioni del riesame che ha negato i domiciliari all'ex presidente dell'assemblea capitolina l'odissea invece dell'ottantenne rischio sfratto a Casal Bruciato giallo sul nuovo avviso vogliamo ricordare che il quartiere di Casal Bruciato è stato proprio questi giorni oggetto di vicende da parte di un'assegnazione di una casa da parte del Comune di Roma a una famiglia Roma e nel taglio basso divorzio tra Max e la Juventus effetto domino sulle panchine di mezza Allegri del Via al Barzer dei ministri adesso la Juventus si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore e sul quotidiano La Stampa quotidiano nazionale di Torino Conte boccia il decreto Salvini il leghista non prendo ordini da lui Di Maio invece dice ormai parla come Renzi Grillini un pugile suonato l'europei i verdi in crescita dalla Germania al Belgio e i sovranisti a Milano fra scandali e richieste a Napoli la Spagna si riprende i quartieri per ristrutturarli erano arrivati riporta l'articolo nel Cinquecento e ora si fanno carico dei problemi mai risolti sin da allora il ritorno della Spagna a Napoli è discreto e molto pratico dal quotidiano la stampa al fatto quotidiano con un titolo di apertura dove si parla degli impresentabili nelle euroliste ecco i 22 condannati imputati indagati prescritti in corsa per il Parlamento dell'Unione Europea chi li conosce li evita questo è un titolo di apertura riportato dal fatto quotidiano la verità ecco il giornale fondato e diretto da Maurizio Belpietro Di Maglio si inginocchia all'Unione Europea il vicepremio rinnega la filosofia economica alla base del contratto di governo e dei provvedimenti già presi che dovrà rimangiarsi nell'ansia di contrastare Salvini si vota a tagli e tasse a riguardo l'Inps invece prende in giro l'eroe di Nassiria doveva indennizzare i genitori del graduato ucciso in Iraq entro 4 mesi dopo 15 anni ancora non si è ottenuto nulla spostandoci adesso dalla verità al quotidiano libero oggi Salvini in piazza Duomo Milano si tinge di verde il capo del carroccio convoca il suo popolo nel commizio sulle europee parlerà famiglie e gente normale mentre giudici giornali e poteri forti lo attaccano Di Maglio lo insulta dicendogli sei come Renzi e nel centro pagina anche qui si riporta la notizia del licenziamento di Massimo Allegri dalla Juventus dopo 5 scudetti i vinti Allegri via dalla Juve spostandoci dal quotidiano libero al sole 24 ore quotidiano economico nazionale tesoro al test dei mercati in due mesi emetterà titoli per 64 miliardi sui conti pubblici a giugno e luglio scadranno titoli per solo i 29 miliardi incognita sugli acquisti della Banca Centrale Europea e spostandoci in basso sul centro pagina si parla anche di Piazza Affari dove viene riportato l'articolo arriva l'ondata dei dividendi di 21 Blue Chip e invece sulle notizie panoramiche sulle notizie panoramiche riportate sul taglio di spalla di destra si parla verso il rinvio del Consiglio dei Ministri debito migranti sicurezza cresce l'attenzione Movimento 5 Stelle e Lega sulle guerre commerciali gli Stati Uniti d'America rinviano di sei mesi dazzi sulle auto di Unione Europea e Giappone questa è la decisione che ha preso il Presidente Trump per 180 giorni ordinando di proseguire nelle trattative con Bruxelles e Tokyo dal quotidiano il sole 24 ore al secolo d'Italia diretto da Francesco Storace grandi piazze e recinti Salvini a Milano e Meloni domani a Napoli tutti gli altri si rifugiano nel locale questo è il titolo di apertura e in primo piano nei box in basso si parla la Meloni il Movimento 5 Stelle di sinistra perciò ecco il motivo perché litiga con la sinistra questa è l'intervista che ha rilasciato Giorgia Meloni determinata che risponde alle domande di Maurizio Mannoni a Linea Notte che figura sul Venezuela Salvini ammette l'errore in Venezuela è legge che riconosce a Yuan Guaidó il ruolo di presidente che porta il paese alle elezioni e poi il ferito inseguito a Napoli nel cortile dell'ospedale la vicenda che è accaduta ieri a Napoli dove si è verificata una sparatoria camoristica che poteva causare una strage dice Maurizio Gaspari ci ha lasciato a Libiti dal quotidiano il secolo al quotidiano avvenire poi passeremo alle prime pagine dei tre quotidiani sportivi titolo di apertura separati in casa Movimento 5 Stelle Lega scontro aperto su migranti famiglie a corruzione ad un passo dalla crisi maltrattamenti e detenzioni inchiesta su Lampedusa il leader leghista non prende ordini da Conte dice ma il premier di Maggio non ci stanno rispondendo che è un arrogante sul suo modo di fare e a riguardo la procura apre indaga sul trattenimento di minori e su alcuni accessi di agenti autorizzati a sbarcare bambini e famiglie dalla Sea Watch dai quotidiani nazionali passiamo sempre ai quotidiani nazionali ma questa volta quelli sportivi titolo di apertura del corriere dello sport dopo cinque anni clamoroso divorzio dalla Juve mai più allegri il terzo incontro con Agnelli sancisce la rottura decisivo il detenimento dei rapporti comparatici e Nedvet giocatori lacrime adesso i eventuali papabili allenatori potrebbero essere Deschamps Inzachi Giardini Mialovic i candidati alla sostituzione di Allegri e sempre parlando di allenatori il presidente della Lazio Lotito incoraggia Inzachi allenatore della Lazio a rimanere alla guida della squadra la Roma invece al Bivio Champions De Rossi monta la protesta stasera il Sassuolo tifo rivolta per lo strappo con il capitano della Roma vediamo oggi alle ore 20 e 30 ci sono delle partite la Roma giocherà a Sassuolo il Genova ospiterà il Cagliari e alle ore 15 Udinese Spal internazionali invece di tennis a Roma Federer torna a casa Nadal è in semifinale invece il moto mondiale oggi la pole Rossi male in Francia queste sono le notizie del Corriere dello Sport passiamo adesso alla Gazzetta dello Sport divorzio Allegri Agnelli fine di una grande storia del calcio Allegri lascia la panchina della Juve dopo 5 anni e 5 scudetti la causa divergenze con Nedved e Paratici sui progetti futuri e questi sono i futuri probabili allenatori della Juventus da Inzaghi Mialovic Sarri De Champ Conte e pochettino del Tottenham e vediamo anche nel taglio basso all'Aquila si parla ancora del giro tappa lo spagnolo Bilbao giro alla scoperta della resa di Conti e formò l'Avvisa i Big dal quotidiano la Gazzetta dello Sport come ultimo quotidiano prima di passare al break pubblicitario il quotidiano sportivo La Signora in Ballo questo è il titolo di apertura ufficiale la Juve rompe con Allegri e cerca un nuovo tecnico per puntare alla Champs De Champs e pochettino in pole Conte e anche Murigno sono proibiti e poi si parla del ritiro dei re di Roma agli internazionali di tennis Federa e Saga salutano Roma sappiamo che il primo ha avuto un stiramento alla gamba Milan Serie A ultimo atto domani a San Siro in tanti giocatori saluteranno che verranno venduti con questo ultimo articolo vogliamo fare adesso un break pubblicitario e poi siamo sempre qui in diretta nella seconda parte per andare a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali e anche alcuni servizi che sono stati preparati ben ritrovati siamo sempre in diretta con Mattino 6 vogliamo subito partire e iniziare con le pagine interne dei quotidiani regionali iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara si parla che i ricorsi che sono stati fatti per le elezioni regionali sono stati respinti il Tar blinda gli eletti ma gli sconfitti due volte dicono ora si rivolgono al Consiglio di Stato nel taglio basso della pagina interna la chiusura evitata fa scattare 6 nuove regole nel traforo si viaggia a 60 km all'ora ecco i divieti in vicore già da lunedì e anche il diciamo il messaggero della regione Abruzzo parla tunnel bassa velocità per ogni galleria traffico su una corsia ecco le nuove regole per ridurre incidenti a rischio inquinamento limite di 60 km orari valido per tutti i tipi di mezzi queste sono le regole del per passare e attraversare il foro del Gran Sasso anche il quotidiano la città ne parla traforo del Gran Sasso a passo di Numaca da lunedì si viaggia a 60 km orari su una sola corsia per galleria con divieto di sorpasso e distanza minima di 50 metri tra un autoveicolo e l'altro ritorniamo al quotidiano il centro parliamo del del biotestamento la legge resta bloccata la proposta presentata due volte dal 5 stelle smargiasse non va avanti chi ha bisogno di trapianto rimane in attesa dice smargiasse sarebbe bello che la scelta venisse indicata nei documenti come si fa con il colore degli occhi e dei capelli ripensarci si può questa è la nuova polemica fatta dalla regione e la malavita si scatena a Pescara rapine furti in 7 negozi notti da incubo in città il questore più telecamere nella zona della movita bandito armato assalta ristorante giapponese scappa con l'incasso acciuffati tre ladri in trasferta il questore misiti i nostri controlli sono capillari presi responsabili la polizia dimostra di esserci e ci spostiamo ancora sempre a Pescara malvivente inseguito da un testimone scippa un'anziana fermato grazie a un cittadino e si parla ancora di altri argomenti ricorso in cassazione monia è il fratello di jennifer dice in giustizia la procura generale tenterà di far annullare la sentenza di secondo grado che ha ridotto la pena al killer della psicologa da 30 a 17 anni i familiari della ragazza uccisa dall'ex è un passo indietro qui vediamo la foto di monia di domenico spostandoci andiamo verso le elezioni di Pescara Baldini su grande Pescara troppi interessi in gioco il candidato conferma il suo no al piano di fusione con Montesilvano e Spoltore e un progetto inutile e dannoso dice ma i costruttori spingono per farlo realizzare e andando si parla avanti si parla del giro d'Italia la gioia e la fatica per la rinascita festa nei paesi attraversati dalla carovana l'arrivo all'Aquila omaggio nel decennale del sisma il quotidiano il centro dedica otto pagine all'interno Conti difende la maglia rosa Bilbao fuga per la vittoria e di questo se ne parla anche il messaggero dove riporta volevamo far vincere Ciccone senza riuscirci Valerio Conti era del posto e ci teneva ma il team di Carboni ha reagito subito qui vediamo nelle foto in alto la partenza nel comune nella piazza di Vasto sulla costa dei Trabocchi il passaggio e a Lanciano che aspettano il passaggio dei ciclisti così l'immagine anche dell'Aquila riporta qui il quotidiano viene rafforzato il commento del sindaco dell'Aquila Biondi uno spot straordinario per il posto e anche il quotidiano vediamo il quotidiano il centro riporta altre notizie in merito anche al comune di Montesilvano dove si parla della presentazione dei candidati di Forza Italia che scommette sul rilancio del borgo storico stato presentato anche alla presenza di Marsiglio illustrato il progetto di riqualificazione che interessa piazza Galli e le due chiese e poi si parla dell'ex colonia marina Stella Maris dedicata al sociale martedì l'esame delle domande che sono arrivate scoperta la discarica abusiva imprenditore indacato a Montesilvano sequestrata dai carabinieri della forestale e l'aria intorno alla G edilizia trovati eternit e vernice e pellicole cinematografiche sotto inchiesta Gilo Minetti spoltore l'impianto rinnovato l'impianto sportivo di Santa Teresa e andando ancora avanti si parla spostiamo a Francavilla al mare lotta all'erosione la protesta ai bagnatori stabilimenti a rischio lo sfogo degli operatori dopo le ultime mareggiate i pennelli da soli dice non bastano vediamo qui alcuni bagnatori che protestano per quello che è accaduto questi giorni e andando ancora avanti con altri articoli ieri sempre in merito al Giro d'Italia anche una tragedia a Villa Caldari muore in moto mentre va a vedere il giro operaio 59enne si schianta contro un'auto in fase di inversione di marcia raggiungeva gli amici per guardare la tappa vediamo qui le foto della tragedia che è accaduta ieri partono i lavori a chiedi nella scuola rischio il comune accoglie le richieste della preside ma l'assessore accusa allarme ingiustificato qui vediamo la foto delle crepe sulla mura della scuola materna di Brecciarola Rina Junior questo è un articolo abbiamo trovato anche in prima pagina sul quotidiano il centro della provincia di Chieti è libero ma resta a Casal Bordino il magistrato di sorveglianza di Pescara gli revoca le misure di sicurezza continuerà a lavorare alla fattoria di Don Silvio qui le vediamo le due foto di Giuseppe Rina durante il trasferimento dal carcere vediamo sempre Giuseppe Rina figlio di Totò che vende i fiori davanti alla chiesa di Casal Bordino a Teramo incentivi alle aziende boom di richieste il bando per sostenere gli investimenti delle imprese del cratere sismico ha registrato 133 domande in sole tre ore qui vediamo la foto dell'assessore Mauro Febbo assessore regionale allo sviluppo economico che sta portando avanti questa iniziativa Santomero la casa di riposo chiusa e la struttura non avrebbe requisiti di sicurezza per ospedare gli anziani si cerca una nuova soluzione volevano rapinare a Morodoro una banca sono stati arrestati presi due campani che cercavano di introdursi nella filiale di banca intesa nei loro piani il sequestro dei dipendenti il tentato invece omicidio di Tortoreto coltellate alla ex compagna affidata alla perizia psichiatrica vogliamo ancora andare avanti ci spostiamo questa volta al comune di Atrium dove arrivano 9 milioni di euro per l'istituto Zoli previsti per la messa in sicurezza dell'adeguamento sismico dell'edificio con i fondi messi a disposizione dal governo lunedì ci sarà una conferenza di servizi alla quale parteciperanno oltre al comune anche la provincia di Teramo da Atri ci spostiamo alla zona di Sulmona scontro sulla sanità spariscono a Sulmona sette posti letto il sindaco Casini si infuria il primo cittadino invia una lettera all'AS dall'assessore regionale Verì sollecitando l'apertura dell'ospedale e rispetto dei vecchi accordi andando avanti poi questo aspetto dell'assessore Verì lo riprendiamo anche nel quotidiano il messaggero regionale truffa in provincia danni per 6 milioni di euro appalti scuole chieste 11 condanne pubblici ministeri duri con l'ex manager specchio e l'ex presidente del Corvo 8 anni per il primo e 2 anni e 10 mesi per il politico vediamo ancora adesso spostarci al quotidiano il messaggero quel massacro non può valere 17 anni di galera la rabbia dei genitori e l'indignazione degli amici sui social per la sentenza che ha dimezzato la pena al killer della psicologa qui riporta nel è peggio del giorno in cui è stata uccisa l'amaro sfogo di mamma Doretta noi per la famiglia verdetto assurdo questo è il commento del familiare comincia la lunga vigilia di bici in città in piazza salotto i corsi di educazione stradale in attesa della pedalata in memoria di Antonella a riguardo vogliamo anche vedere un servizio prego domenica 19 maggio Pescara ospiterà il bici in città 2019 siamo con Luciano Ferrero referente della WISP per questa manifestazione un appuntamento ormai che si ripete anno dopo anno un grande appuntamento per l'Unione Italiana Sport per tutti certo noi siamo arrivati alla 36esima edizione di bici in città in modo particolare è stata curata in quanto in fase sperimentale negli anni nei mesi precedenti abbiamo cercato di coinvolgere le scuole sulla tematica dell'ambiente e della mobilità sostenibile e i ragazzi hanno prodotto degli articoli che sono stati pubblicati sul messaggero e i ragazzi hanno ricevuto una targa di ricordo non solo questo ma la novità di questa manifestazione del 2019 è che è dedicata alla memoria di Antonella Mastrangio la professoressa che è venuta a mancare dell'istituto decimo dell'istituto comprensivo decimo la caratteristica della manifestazione che ha un duplice aspetto sociale il primo è che il ricavato delle iscrizioni che sono offerta sarà devoluto totalmente dalla WISP alla Menza San Francesco il secondo aspetto non da meno è la presenza della FIDAS donatori sangue per promuovere e divulgare la donazione del sangue che non è mai abbastanza infatti i reparti di oncologia ematologia geriatria e quant'altro fanno una richiesta continua di sangue quindi un invito anche alla donazione e si riparte andando avanti con la pazza primavera a campo imperatore neve record sulla piana che porta gli impianti di sci i mezzi spazzaneva hanno dovuto fronteggiare accumuli record di neve per il mese di maggio un altro segno delle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato questo periodo primaverile spese pazze per le scuole due a processo ricostruzione bellisario e serpieri chiesti otto anni di condanna per il dirigente specchio e due per l'ex presidente del Corvo lo Stato si è costituito parte civile sollecitando il risarcimento di 550 euro per container si poteva risparmiare almeno di un terzo questo è l'oggetto della proposta della condanna taglio posti letto lettera della Casini a Verì il sindaco di Sulmona vogliamo però a riguardo vedere anche come la Verì si è data molto da fare anche per la riduzione delle liste d'attesa vediamo il servizio buone notizie per la sanità abruzzese perché è notizia davvero di poche ore fa l'arrivo di nuovi fondi Assessore Verì per quanto riguarda le liste d'attesa è così? Sì abbiamo voluto portare in giunta questa delibera importante per l'abbattimento delle liste d'attesa mi ha visto in un lavoro proficuo in questi 60 giorni un grande risultato perché sappiamo quanta non omogenità c'è nella nostra regione per quanto riguarda il problema dell'essere in un elenco per poter usufruire di una prestazione sanitaria abbiamo riorganizzato sia da un punto di vista di procedure di organizzazione di prescrizione cliniche e soprattutto abbiamo investito anche dei fondi da parte della regione ci sono 2 milioni di euro ci sarà un'organizzazione che verrà fatta dalle aziende abbiamo dato i 60 giorni di tempo in modo che ognuno porterà avanti un programma ben preciso ci sono anche delle novità riguardo ai due livelli di cup cioè un cup dove c'è la prima visita ma soprattutto poi un secondo cup di secondo livello dove invece c'è una prenotazione di controllo ci saranno anche nuove assunzioni ma questo più che nuove assunzioni ci sarà un ampliamento dell'orario di apertura quindi su 6 giorni lavorativi quindi si darà possibilità di altri specialisti scritti nell'elenco del SUMAI di poter prestare la propria opera la propria professionalità nell'ambito del cup ci sarà una riorganizzazione che vedrà qualche figura che avrà il compito di tutoraggio delle criticità vogliamo cambiare argomento ci spostiamo ancora alla vicenda del comune di Avezzano l'esecutivo comunale ora traballa nuove spine per il sindaco De Angelis sulle nomine Forza Italia sull'Aventino c'è ancora Maretta nell'esecutivo avezzanese dunque l'attribuzione delle tele non è facile vogliamo ricordare che già da diverse settimane la giunta comunale di Avezzano sta avendo il sindaco vari tipi di problemi con dei suoi alleati sul caso Bond e Carichieti la procura chiude il caso non c'era truffa le obbligazioni subordinate furono vendute nel 2009 inimmaginabile il crack della banca sono stati scagionati gli impiegati delle filiali gli avvocati pronti a presentare opposizione muore contro auto che fa inversione anche qui si parla della triste vicenda di Francesco D'Alessandro che muore contro un auto l'incidente sulla Maruccina all'altezza di Villa Caldari per il motociclista impatto fatale mezzi sequestrati D'Alessandro era partito da Crecchio per seguire il giro l'operaio lascia la moglie e due figli oggi alle ore 18 si svolgeranno i funerali ladro di tabacchi a Lanciano condannato a 3 anni e 4 mesi ladri era venuto in trasferta condanna 3 anni e 4 mesi di reclusione per il foggiano scomparso dinanzi al giudice ieri con la complicità anche di altre due persone non identificate l'uovo aveva svaliggiato di 400 pacchetti di sigaretta una tabaccheria alimentare di casa alla guida nel marzo 2017 a Teramo Tercop sitine e proteste il sindaco stiamo con voi gli operatori sospendono lo sciopero e tornano a vigilare sulle strisce blu il sindacalista CGL gara entro l'anno deve tenere conto dei parametri sociali qui vediamo la manifestazione che si è svolta davanti al comune dei dipendenti della Tercop Tortoreto sold out per il giro d'Italia fa bene al turismo l'acqua della fontana si tinge di rosa addobbe d'eventi il sindaco grande visibilità per la città e il suo lungomare vediamo qui la piazza del comune di Tortoreto che è tutto pronto per l'evento che si terrà questa mattina per la partenza del giro d'Italia andiamo avanti spostandoci sul quotidiano la città della provincia di Teramo nuova allarme sull'emergenza cindiali Pietro Smargiassi chiede alla regione di affrontare la questione mi aspettavo un cambio di passo Pietro Smargiassi è il presidente della commissione di vigilanza poste sisma bando per le aziende del cratere chiuso in tre ore con 133 richieste questo è quello che riporta l'assessore allo sviluppo economico Mauro Febbo che mette risalto proprio la volontà di ripresa e riscatto degli imprenditori abruzzesi presa la banda di giovanissimi che ripuliva i negozi pescaresi tre foggiani di cui due minorenni fermati alla stazione dalla squadra volante mentre cercavano di tornare a casa vogliamo andare avanti si riparla anche qui della situazione della tercop strisce blu né affidamento né proroga il sindaco parla di proseguzione fino al 31 dicembre in attesa della gara la sosta non sarà gradis vogliamo vedere un servizio c'è uno spiraglio di risoluzione nella complicata vicenda della tercop di teramo che da anni gestisce i parcheggi a pagamento della città sgomenti 29 lavoratori tra i quali molti svantaggiati all'arrivo di una determina dirigenziale del comune che ha sospeso il servizio di gestione a partire da metà giugno prossimo in attesa di una gara d'appalto una decisione che ha gettato nel panico gli operatori che tra un mese si ritroverebbero senza lavoro oltre al fatto che la cooperativa fallirebbe non potendo partecipare alla prossima gara una situazione grave che il sindaco Gianguito D'Alberto ha affrontato con i rappresentanti sindacali e della tercop immaginando una soluzione temporanea che possa evitare il disastro come è andato l'incontro con il sindaco il sindaco ha ribadito quello che ha detto un consiglio comunale cioè praticamente ha dato ai dirigenti il gruppo dirigente ha dato degli indirizzi di preparare al più presto la gara e ovviamente ha esposto le criticità di fronte alla sospensione del servizio cioè la perdita economica per il comune la perdita del lavoro il disagio per chi parcheggia e quindi per il commercio e quindi lui propenderebbe il sindaco per una non dico una continuità su di proroga perché questa giustamente non si può dare per ripristinare la legalità e magari forse con un nuovo affidamento temporaneo fino a fine anno per permettere il tempo giusto di fare la gara e ha dato questi indirizzi praticamente che ha dato pure al consiglio comunale quindi se questo per noi è una cosa positiva poi però la risposta aspetterà ai dirigenti e quindi stiamo un pochettino in apprezzione per avere questa risposta a giorni quindi questa risposta dovrebbe arrivare assolutamente prima del 20 giugno non 20 giugno ma assolutamente molto prima diciamo qua si parla praticamente potrebbero almeno ce lo spieghiamo anche entro fine del mese perché i dirigenti sono tecnici quindi questo quesito i posti dal comune potrebbero andare nell'arco di qualche giorno perché per voi una sospensione anche di un mese farebbe morire la vostra cooperativa basta non pagare la rata del debito maturato e possono dire voi siete insolventi quindi non potete partecipare alla prossima gara e questo sarebbe un disastro un disastro ma diciamo pure in vista di tutti i precedenti che ci sono stati sempre nel rimanere nel comune di Teramo lunedì ci saranno l'avviso per assegnare le case agli sfollati il comune apre le gradatorie per assegnare i primi 95 appartamenti messi a disposizione dalla Regione vogliamo adesso andare avanti sempre rimanendo a Teramo l'ex manicomio riapre per gli animalisti ieri secondo turno nel complesso di Porta Melatina per smentire i maltrattamenti e gli allarmisti che ci sono stati durante questi giorni Moro d'Oro ecco l'agguato sventato ieri dai carabinieri nei confronti dei dipendenti della banca tentano di entrare nella notte nella filiale d'Intesa San Paolo per attendere il personale e poi rapinarlo qui vediamo le foto dei carabinieri davanti alla filiale d'Intesa San Paolo e i militari con gli attrezzi che hanno sequestrato per la rapina a Tortoreto è il grande giorno del Giro d'Italia città colorata di Rosa e tanti eventi in occasione della partenza dell'ottava tappa della corsa ciclistica grande evento vediamo la città colorata di Rosa proprio in occasione della partenza coppia di anziani maltrattata dal figlio 45enne scatta il divieto di avvicinamento impediva ai genitori di accendere il riscaldamento questo è l'accusa con la quale un uomo di 45 anni è stato condannato dal giudice del Tribunale di Teramo alle misure cautelari dell'allontanamento da casa e dal divieto di avvicinamento ai genitori a una distanza inferiore a 500 metri Verì tocca con mano i problemi dei reparti dell'ospedale Giuliese l'assessore regionale alla salute visita il nosocomio assieme a Pietro Tribuani che sarebbe il candidato sindaco di Giulianova l'assessore ne ha approfittato per prendere nota di tutte le carenze del personale dell'ospedale andiamo ancora avanti passiamo adesso le pagine sportive Juve Allegri fine di un amore vincente il tecnico 5 anni dice meravigliosi oggi parla con Agnelli al fianco in Zaghi e Sari tra i probabili Pescara tegola su Pilon si ferma Brookman il Pescara è in ansia problema muscolare è in dubbio mercoledì sera la partita e vogliamo vedere un servizio prego Verona o Perugia il Pescara tende il nome della squadra da sfidare per la semifinale playoff i precedenti in questo campionato non sono particolarmente positivi con entrambi il Delfino ha perso il match in trasferta ed ha pareggiato col medesimo ponteggio di 1 a 1 quello disputato all'Adriatico Cornacchia con entrambe però ci sono precedenti ben auguranti in fatto di playoff Pol Verona il Pescara centrò la promozione in Serie B nel 2010 al termine di una tiratissima filane nella quale la squadra di Eusebio Di Francesco ebbe la meglio su quella di Giovanni Vavassori curiosamente anche quell'Ellas ebbe una svolta tecnica in panchina nel finale di stagione quando proprio Vavassori fu chiamato a guidare gli scaligeri nei playoff al posto di Gianmarco Remondina silurato dopo l'ultima giornata di campionato quest'anno l'esonero è toccato a Fabio Grosso che col pari di Pescara dello scorso 27 aprile ha solo prolungato l'agonia di altri 4 giorni la sconfitta casalinga col Livorno gli è stata fatale il successore Aglietti dopo il debut horror di Cittadella ha centrato i playoff con la gara al Cardiopalma con il Foggia il tecnico del Perugia Sandro Neste invece tra alti e bassi è arrivato fino a fine campionato col premio finale dell'accesso agli spareggi dopo la retrocessione del Palermo l'ultimo precedente playoff col Perugia risale al maggio 2015 quando i biancazzurri da poco passati nelle mani di Massimo Oddo da settimi sfidarono il Perugia al Curi avendo un solo risultato a disposizione la vittoria e vittoria fu in rimonta con le reti di Politano e Bjarna sono sul rigore dopo il vantaggio Umbro firmato da Goldeniga la marcia di quel Pescara si sarebbe poi arrestata nella finale col Bologna ricordi insomma che accendono le speranze del Pescara e dei suoi tifosi anche perché la squadra nelle ultime due giornate di campionato ha dato segnali di un progressivo miglioramento sotto il profilo della condizione atletica Beppi Villone e il suo preparatore atletico il professore Giacomo Tafuro hanno lavorato per presentare una squadra che potesse giocare al meglio in questa fase decisiva dopo tutto da due mesi proprio il tecnico di Preganziol ripete sempre qualifichiamoci ai playoff e poi saremo la mina vagante la qualificazione è arrivata e mercoledì ci sarà un primo saggio di quanto la squadra è pronta a dare il tutto per tutto per quelle quattro partite che separano il Pescara dal sogno del ritorno nella massima serie buoni segnali arrivano anche dalla seduta odierna del Poggio degli Olivi si è riaggregato al gruppo Ugo Campagnaro che nei playoff può essere un'arma decisiva dall'alto della sua esperienza Campagnaro al pari di Bruno Memuschai Fiorillo fece parte del gruppo che vinse la finale con il Trapani di Scognamiglio nel 2016 per non parlare di Matteo Ciofani che l'ha vinta lo scorso anno col Frosinone buone notizie anche per gli altri acciaccati Vincenzo Fiorillo e Cristiano Del Grosso hanno lasciato la palestra e benché in via differenziata hanno lavorato sul campo al pari di Alessandro Bruno intanto da domani inizierà la pre-vendita dei tagliandi per la semifinale di ritorno in programma domenica 26 maggio alle ore 21 nei punti vendita Ticket One e nel Pescara Store di Via Carducci da domani il 18 maggio e fino al 21 maggio gli abbonati della stagione corrente potranno esercitare la prelazione sul proprio posto usufruendo del listino prezzi scontato riservato vogliamo spostare alla serie C del Teramo Calcio dove diminuiscono le presenze al Bonolis la società però entro mercoledì il presidente Campinelli avrà un nuovo incontro con l'avvocato Campano per acquistare una parte delle quote della società ci spostiamo al messaggero come abbiamo visto anche dal servizio i quattro assi per la serie A Fiorillo Campagnaro Bruno e Musmai i redoci della promozione ai playoff del 2016 Brugman c'era nella finale di Bologna del 2015 Pilon vuole esperienza e attaccamento ai colori ci spostiamo adesso anche qui alla serie C dove il Teramo Calcio e Palma verso un accordo l'intesa tra il vice presidente della Juve Stabia e Campitelli sta prendendo sempre più corpo notizie sportive anche qui della città si parla ancora Palma potrebbe acquisire la minoranza weekend di riflessione in casa Teramo ma il tributo ratista potrebbe entrare con una quota pari al 50% con queste ultime notizie si parla più forte degli imprevisti e delle avversità a fronte del problema logistico l'impresa degli ultraciclisti lungo viaggio verso il sud della Croazia questa è l'esperienza che vogliono fare dei ciclisti abruzzesi con quest'ultima notizia vogliamo ringraziarvi per averci seguito nella diretta di Mattino 6 che sappiamo e vogliamo ricordare che Mattino 6 va in onda dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 9 la replica dalle ore 9 alle ore 10 grazie di nuovo per averci seguito e per la vostra attenzione vi auguriamo una buona giornata per la vostra attenzione per la vostra attenzione per la vostra attenzione